Si chiama Bruno Lentini, forza Bruno, tocca te, piccolissimo Bruno Lentini, eccolo qui che arriva? E' proprio piccolo, eh? Bene, per il suo aiuto ascolteremo, questo è un pezzo classico per i debuttanti, di Schmitt, compositore francese contemporaneo, morto il 518 a Schmitt, ascolteremo, qui vi partiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravissimo, Bruno Lentini, piccolissimo suo debutto.